Ciao a tutti, siamo a bordo di Pegaso Ita 883 Marina Militare, quindi questo è un bel progetto, ora qui sono un po' teso, manca meno di 48 ore la partenza Facciamo un po' vedere quella che potrebbe essere una giornata quasi tipo sul Mini 650 Quindi come lo definiscono un po' l'ufficio dei navigatori, infatti c'è rimasta ancora un po' di spazzatura Tipo ufficio, diciamo che qui rispettiamo anche l'ambiente, quindi è un obbligo molto interessante Che qui in Francia è molto sentito, è quello di portare a bordo tutta la spazzatura Sia quando siamo in porto ma quando siamo in mare e viene controllata l'arrivo Io diciamo che di solito quando timono sto qua, devo dire che timono ma io comunque timono molto poco Perché faccio fare tutto al pilota, però insomma la posizione è questa Poi mi aggancio sempre, l'altra cosa fondamentale, quest'anno ha insistito molto la federazione Perché la prevenzione è tutto su queste piccole barche, specialmente navigando in solitario Quindi giubbotto salvagente, tipo quello d'aereo, cintura di sicurezza E poi quando le situazioni iniziano ad essere un attimino pesanti Cioè che sono quelle situazioni bellissime da vedere sui video, ma non per noi Ci mettiamo a bordo questa fascia dove noi possiamo continuamente avere il VHF sotto ascolto E poter rispondere velocemente Qui ci andrà poi una barrettina da mangiare perché quando poi le condizioni sono toste Non si può scendere, si rimane qui inchiodati E io per quest'anno, dopo i tre giorni che ho fatto al timone con l'albero rotto Mi sono preso il pannolone Questo sicuramente è un oggetto molto interessante Misura un pochino più grande Però quando sai come sembra che la previsione si partirà per tre giorni Tosti di fronte, fronte freddo, quindi vuol dire pioggia, battente, freddo Ci si mette, volevo dire calzerete, ma no, non si mette calzerete Ci si mette comunque il collan, ci si mette il sopracollan, ci si mette il sottocerata Ci si mette il sopracollan, per cui comunque dove la visibilità è bassa Mollare il timone, andare dentro, comunque non è un'operazione consigliata E quindi bisogna abituarsi a stare tante ore al timone Quindi poi l'altra cosa che ho fatto quest'anno rispetto all'altro anno Più che un termos, una tazza semplice Dove posso anche mangiare Perché ovviamente purtroppo rispetto alle abitudini terrestri Non è che uno si ferma, fa da mangiare, mangia, pulisce i piatti e torna al lavoro Qui è il tempo che decide, se c'è un mercantile davanti, una barca, il tempo Può darsi che fai da mangiare E li ho filizzato Da mangiare, magari passano un'ora, due ore, tre ore, quattro ore Quindi metto qua dentro e con calma me lo mangio Questo più o meno è il pozzetto L'altra cosa interessante che quest'anno ho fatto Questo non è una mazza da baseball Ma è un'asta È un'asta con cui si tolgono le alghe dalle derive Dai timoni Ma soprattutto un altro aspetto purtroppo negativo È che il mare e l'oceano iniziano a essere pieno di buste di plastica E quindi questo inficia sì sul timone Sono queste buste che si attaccano Purtroppo per rendervi un'idea Sicuramente avrete visto delle foto Di delfini sfigurati, balene, pesci morti Perché poi a noi ci ostacola un po' la nostra velocità di qualche decimo di nodo Però magari nell'ecosistema marino crea qualche danno Per cui pensiamoci sempre quando dobbiamo buttare qualcosa a mare Poi c'è Braids È il gabbiano bretone Perché io con tanta umiltà parto Non voglio sfinare né l'oceano né i concorrenti bretoni Perché è come andare a giocare a calcio Di solito la nazionale italiana vince su tutti E qui purtroppo siamo nel mondo loro L'altra cosa carina che mi sono fatto Però vabbè per dire Siccome quando parti sei andato Io sono già andato di mio Quindi tutte le borse che vengono poi stoccate all'interno Hanno un contenuto Quindi immaginate acqua salata Per dei riferimenti giorno, notte Non hai più una vita regolare, scandita Da alzarsi, tram, ufficio, ritorno, mangiare, colazione, bagno Palestra ogni tanto E quindi nel buio uno deve trovare qualsiasi cosa Quindi ho diviso in questo quadernino plastificato La mia scatola nera Sia tutte le schermate elettroniche Ma anche poi tutto all'interno Perché le sacche sono tante Andarne a aprire una, due, tre Poi la barca è piena di qualsiasi cosa Quindi nulla Io qui a bordo sopra penso di aver fatto Il mio portafortuna Uno dei tanti che non manca mai Capitan Ciorta E questo è un po' in maniera simpatica il pozzetto Poi l'altro aspetto interessante di quest'anno È che abbiamo montato due pannelli solari Non abbiamo supporto esterno Quindi sono mobili E praticamente con dei meschettoni Io li posiziono in pozzetto o sulle draglie E questo dovrebbe coprire poi il fabbisogno del mio coskipper Che è quello Quello sciuccia Questo Non so Con un litro di Non di alcol insomma Ma di sole Con un'ora di sole Non è che fa tanto Allora abbiamo aumentato la potenza con questi E che saranno veramente La nostra vera energia di bordo Perché senza questi Niente coskipper Niente coskipper Devi stare ore e ore al timone E poi la fatica cuoci E ora dal pozzetto Dentro Pegaso Living room Per i prossimi 30 giorni Wow Entrata comoda sul mini Però questa è la doppia faccia della sicurezza Perché l'entrata deve essere Magari un po' meno comoda Ma sicura quando poi entra del mare Qui siamo all'interno di Pegaso 883 Marina militare Lo spazio vitale è veramente poco Perché per una regata così lunga L'organizzazione impone comunque Tanta acqua potabile Che va caricata prima Del materiale di sicurezza Diviso su due sacche Le vele E il materiale di rispetto Quindi ci ho visto tutta volta Un albero di 12 metri Tagliato a pezzi così Come l'antenna lo uso nel caso No scherzo Però insomma E poi Una cassettina degli attrezzi Allora iniziamo velocemente La cassettina di attrezzi Che è quella un po' principale Che si usa sempre Prevede un coltello galleggiante Io preferisco chiudibile Perché comunque il mare è meglio di no Un paio di forbici Ovviamente con la sicurezzina Poi due chiavi principali Legate perché il mare Finiscono sempre Poi vabbè Uno spruzzo Uno spruzzino Non chiamiamolo Cioè multigenerale Con cui magari intervenire In qualsiasi cosa E poi questa Che non c'entra Però Questa è un po' Come si usa al mare d'estate Per rinfrescarsi Perché comunque Non è da prendere sotto gamba Il sale Ha un'azione abbastanza aggressiva Sulla faccia E sugli occhi Ma soprattutto Quando uno si lava Perde magari Di vista Quello che è il consumo Perché anche Un'altra cosa Interessante Che Quando stiamo a casa Ci laviamo i denti E lasciamo l'acqua scorrere Quelli sono litri 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 E quindi qui bisogna stare attenti Perché L'acqua che portiamo Non è limitata Però se uno inizia A consumarne 5-6 litri Per lavarsi i denti A sciacquarsi la faccia E si fa presto Quando sei senza Poi ti devi fermare Questo è il bidone Delle medicine Non so se si riesce a vedere Allora lo apriamo Infatti non a caso La croce Vabbè C'è un paio d'occhiali Di rispetto C'è la lista dei medicinali Piegata E poi c'è un minimo Di guida medica Fornita organizzazione Dove abbiamo fatto un corso Dove ci sono le varie patologie E soprattutto I vari medicinali A schema Con i metodi Di intervento Una cosa di cui Vado abbastanza orgoglioso E anche se poi Pesa qualche grammo Di più Però è obbligatorio Lo specchio Deve essere doppio Lo specchio Perché ovviamente Stando in mare da solo Se ti devi guardare Qua dietro Diciamo Per un brufolino Niente per altro Perché poi comunque In mare può succedere di tutto Io ho questo due specchio Recuperato da due lastre Di acciaio Lucidate E questo Dico a tutti È per non romperlo Però siccome sono scaramantico Come sapete Rompendo uno specchio Insomma Non è il caso Di sfidare la sorte Quindi questa è un po' La cosa di cui vado Molto orgoglioso E poi come dicevo I miei vari Non portafortuna Però amici Che ci seguono Ci sono un po' Tutti questi Non so se riesce a vedere Sembra quasi Quasi una bambolina voodoo Guerriera In effetti quasi lo è Anche questo Ora si vede male Ma soprattutto Nel mio amico napoletano Che sono riuscito Eccolo qua Non so se si vede È lui Vado particolarmente Orgoglioso Perché mi ha detto Che questo Ha tutto quel che deve avere Quindi Ha Le mani Con le corna Il ferro di cavallo Ovviamente Il peperoncino E poi Pulcinella Col cappello nero Quindi ovviamente C'è anche il certificato Di garanzia a peso Se non dovesse Fare il suo lavoro Io torno Soddisfatti e rimborsati E gli scatta la violenza E basta Questo è un po' Il pegasino Di cui vado Veramente orgoglioso Essere ritornato in mare Sono felicissimo Il progetto Con Marina Militare È un progetto Sicuramente formativo Quindi a volte Un po' meno sportivo Rispetto a chi ha Sponsor Privati Dove ovviamente L'obiettivo È arrivare uno Il nostro obiettivo È fare formazione Promuovere la vela In Italia Rivalorizzare Le nostre coste Ovviamente italiane Venire qui E imparare un po' Dai francesi Il mestiere della regate Ma soprattutto Poi riportare in Italia Tutta questa grande formazione Che abbiamo accumulato Sia per me Che per Giovanna Quindi Forza Pegaso Forza Italia Forza Marina Militare 1,2,3 1,2,3 Grazie.